Senza tanti proclami, il Belluno si mantiene stabilmente nelle zone alte di classifica. Anzi, è il momento addirittura primo assieme al Trento, nonostante le Aquile gialloblu abbiano due gare da recuperare. Intanto però la squadra del capoluogo continua a mantenersi alle spalle formazioni ben più blasonate e comincia ad avanzare una forte candidatura in ottica playoff. Stavolta il polisportivo cade il campo d'Arsego, battuto 1-0. Decide nel secondo tempo la rete di Dennis Chiesa, giovane difensore sempre più decisivo in quest'annata dove tutti stanno rendendo al di sopra delle aspettative. A quota 32 punti diventa quasi fuori luogo parlare di obiettivo salvezza, ma il tecnico Renato Lauria, dopo l'analisi delle match, dimostra di non voler compiere eccessivi passi in avanti. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, dal quale potevamo uscire con molto di più di uno 0-0. Credo che non abbiamo rubato niente a nessuno, abbiamo spinto, avuto un alto ritmo, siamo stati ordinati, quindi credo che i ragazzi abbiano fatto l'ennesima prestazione e il merito è loro unicamente. Sono veramente un gruppo che se crede ancora di più può continuare fino alla fine in questa maniera. Siamo a fine gennaio, però il Belluno ha già 32 punti in classifica. L'obiettivo stagionale iniziale era la salvezza, ma adesso si può pensare anche a qualcosa di più, visto la grande stagione fatta dalla tua squadra. Noi in spogliatoio, nel nostro gruppo, abbiamo degli obiettivi precisi. Il nostro obiettivo adesso è il Charlens. Tutto il resto è giusto che ne parlino i tifosi, la società o chi per esso. Noi andiamo avanti per la nostra strada, partita dopo partita, e quindi alla fine tireremo le somme. Adesso ci interessa unicamente il Charlens. Come detto dall'allenatore gialloblu, il Belluno tornerà in campo contro il Charlens Muzzane domenica al Polisportivo. In mezzo non ci sarà la trasferta infrasettimanale a Portotolle, a causa delle positività nella formazione rodigina.